Mi raccomando partecipate alla giornata del vaccino, sarà a disposizione di tutti coloro i quali si presenteranno per essere vaccinati previa prenotazione sulla piattaforma di poste italiane, sarà a disposizione il vaccino AstraZeneca, uno dei tre vaccini che vengono utilizzati in tutta Italia, in tutta Europa e in tutto il mondo e che sta dando grandissimi risultati. Non voglio citare tutti ma cito un paese per tutti, la Gran Bretagna che come potrete vedere dalle cronache ormai anche televisive ha riaperto le proprie attività e ha finalmente ridato ossigeno non solo alle attività ma anche proprio alle famiglie inglesi e britanniche in generale. Quindi partecipate tutti a queste due importanti giornate, queste due Vax Day il 24 e il 25 di aprile. Si è deciso per sabato e domenica di fare un Vax Day implementando i punti e le prenotazioni sui grandi hub provinciali della regione, quindi verranno raddoppiate il numero di dosi, è un valore simbolico anche il fatto che questo giorno sia il giorno della liberazione perché soltanto tramite i vaccini potremo liberare la Calabria dal Covid.